Buonasera, sono Laura Antitti. Volevo presentarvi World Art per creare gratuitamente nuvole di parole con Cloud Generator, utile per l'apprendimento visivo immediato dei concetti chiave. Serve per stimolare la percezione dei concetti fondamentali di un discorso per autovalutare il proprio apprendimento. Le parole possono provenire da testi scritti, dagli stessi studenti, da testi di altra provenienza, da siti web, nel qual caso si deve mettere l'indirizzo della pagina. Una nuvola di parole, create now, e qui siamo nell'interfaccia e clicco su create, più create, e vedete che adesso mi carica la pagina. Ok. Ora, cliccando su import, posso importare quindi qui il testo, da un testo, oppure anche da un sito web. Dal sito web dovrò mettere l'indirizzo. Importo da un testo, la poesia alla luna di Leopardi, incollo il testo, lascio remove common words, remove numbers e stemming. Import words, e vedete che mi ha importato tutte le parole. Posso agire su queste parole, ad esempio, enfatizzando alcune parole, perché dal numero delle volte che vengono ripetute saranno messe in evidenza nel testo. Posso anche togliere delle parole, cancellandole, se ritengo che siano delle congiunzioni da cancellare, e posso anche se voglio, alla fine, aggiungerle ad in a new word. Ecco, queste sono le parole, come vedete, Leopardi, che ho scritto una sola volta, magari lo metto in evidenza con 15 volte, 15. Poi, in shapes, vado a scegliere come saranno aggregate le parole, vedete che le immagini sono tante, pure identificabili attraverso delle categorie, nelle quali posso scegliere. Noi ne sceglieremo una che ci soddisfa, che ci piace, magari vediamo Christmas, visto che è Natale, prendiamo l'alberello come parola, poi andiamo a scegliere il fonts, ok, e quindi qui abbiamo un'ampia possibilità, poi il layout, come voglio che le parole compaiano, facciamo orizzontale e verticale, le possibilità sono tante, e anche la densità delle parole, posso aggiungere pure, posso aumentare o diminuire questa intensità. lo style, qui posso agire sui colori, word color, cliccando su custom, cliccando sul colore, esempio, ok, e posso anche togliere un colore che non mi piace, ad esempio, cliccando sulla casella del colore, ok, e vedete, li vedete comparire qui, magari ne aggiungo un altro, facciamo, va bene, lì era il verde, mettiamo un blu, ok, close, questo non l'ho preso, ok, e dovevo fare add a palette, allora, add to palette, lo vedete comparire, mettiamo anche un bel rosso, questo, qui, add to palette, e vedete comparire il colore, close, e quindi a questo punto ho messo tutto, visualize, e quindi adesso mi visualizzerà la nuvola. ecco, la nuvola, che è al, così, l'aspetto dell'albero di Natale, vedete che le parole poi possono essere animate, io posso utilizzare comunque un, l'enfasi del colore, ad esempio aumentando il colore, al 20%, facciamo al 40%, posso anche scegliere un background, un colore di background, ad esempio, potrei scegliere il giallo, apply, ecco, però si vedeva meglio forse il bianco, rimettiamo quindi il colore bianco, apply, potrei anche mettere un background image, eccetera, quindi ho terminato di creare la mia nuvola, come vedete, e ora posso sia stamparla, che reset, che rieditare, che cancellare, che tornare indietro, posso poi salvarla, save, e quindi l'ho salvata, posso poi share, la posso anche, come vedete, fare il download, nei vari formati, e posso poi con share, condividerla in facebook, twitter, per email, link, e posso anche embedarla in una pagina web, make public, per fare questo, e quindi mi dà il codice, per poterla embeddare nei siti.